Buongiorno a tutti, oggi è un gran giorno perché intervisteremo a meno di James, la scrittrice di questo nuovo libro, Hello Destini. Alessia la faremo a comandare qua vicino a me per intervistarla. Buongiorno, mi scusi per l'italia. Buongiorno, no, no, tranquilla, intanto siamo abituati che arrivate sempre l'italia. E' un conto da voi. Ah sì. Boh, dai, cominciamo subito con questa intervista di questo libro. Allora, raccontaci di chi sono i protagonisti o di chi è la protagonista di questa storia. La protagonista di libro Hello Destini è Gemma, che fa anche parte di Jessica Jupiter, che è una aspirante astronoga. Ma invece ci sono antagonisti o personaggi secondari? Personaggi secondari sono tutti i suoi compagni di classe, invece antagonisti è Ella e Cindy, che è una ragazza che è molto vanitosa e vuole essere sempre nel centro d'attenzione. E ci racconta anche un po' la trama? La trama, se volete scoprirla, dovete comprare il libro, che è molto divertente e molto interessante. Ma ci insegna molte cose? Ci insegna tantissime cose della vita di questa ragazzina, che è tutto quello che ha sopravvissuto. Che in pratica possiamo vivere anche noi? Alcuni sì. Ah, ok. Alcuni può succedere, capitare. Boh, allora alla fine la vedremo acquistando sto libro. Sì. Dove lo possiamo trovare? In tutte le librerie. Ok. C'è anche gli altri tipi. Gli altri libri? Sì, per esempio Love Match, Stupid Cupid e I Love Biles. Ah, ok, adesso è finita sta intervista. Se volete scoprire il finale andrete in libreria a comprare sto libro. Ciao! Ciao! Ciao!